Assalto alla zecchia Assalto alla zecchia è uno skip room ben studiato e davvero adrenalinica, sicuramente tra le più coinvolgenti che abbiamo giocato. La presenza attoriale, importante ma mai invasiva ai fini della risoluzione del gioco, rende questa esperienza davvero particolare. Nel tentativo di compiere la rapina del secolo vi imbatterete in enigmi ben congegnati ma allo stesso tempo abbastanza difficili. Pertanto consigliamo questa stanza a giocatori piuttosto esperti. Punto forte di questo skip game è senza dubbio il vestiario che avete in dotazione, ispirato alla celebre serie tv La Casa di Carta. Rimboccatevi le maniche, se riuscirete a terminare questa esperienza e ne uscirete veramente appagati oltre che divertiti. Straconsigliata da noi di Skip Advisor.